Ciao raga, bentrovati sul mio canale youtube, tempo di tirare le somme, infatti ormai ci avviamo a quella che è la stagione dei Tots all'interno della quale verremo sommersi letteralmente da carte pompate con statistiche incredibili ma che dovremo essere bravi a valutare perché alle volte non è detto che rendano effettivamente per quello che vediamo così semplicemente numeri alla mano quindi che cosa andiamo a fare in queste prossime due settimane? andiamo ad analizzare quelli che sono i migliori giocatori ruolo per ruolo secondo me a partire oggi con i difensori visto che abbiamo tante belle carte che si sono affacciate con le ultime promo nel nostro meta quindi startiamo subito senza perdere troppo tempo con il primo difensore due premesse, la prima è che all'interno di questa top mancheranno quelle che sono le Icon, i Toti eccetera eccetera perché ovviamente non ve lo devo stare a dire io che sono top, visto che per quanto riguarda le Icon abbiamo soprattutto quelle che sono le diversi tier list che trovate sul canale e per quanto riguarda i Toti ovviamente parliamo di carte estremamente forti che insomma non hanno bisogno di presentazioni seconda premessa però che riguarda solo Varan, sto registrando questo video mercoledì pomeriggio ciò vuol dire che la sera giocherà il ritorno, io credo che alla fine passerà il Real quindi questo diventerà 91 se si sarò stato gufo lo scopriremo ma questo non significa che Varan sia e rimanga uno dei migliori difensori del gioco non più Varan base, non più Varan if che per me ormai fa un fatica ma questo qua è paragonabile praticamente a quelle che sono le statistiche di un Toti infatti è un metro e 91, ha normale alto, piede destro 2.3, accelerazione 83 e 89 di velocità scatto quindi diciamo statistiche simil terzino no, visto che si portano tanti terzini quest'anno spostati in ruolo centrale abbiamo anche degli ottimissimi passaggi 88 di corto e 87 addirittura di lungo, veramente tanta roba abbiamo poi un parametro che solitamente spaventa quel 69 di agilità però fondamentalmente Varan il suo lo fa lo fa perché è un difensore centrale quindi non è che deve essere chissà quanto insomma fast però ha 95 di reattività e questo ci interessa perché la reattività ci permette di poter stare dietro a quelli che sono i micromovimenti degli attaccanti avversari sulle quali sono basate praticamente tutte le azioni offensive avversarie per cui quell'attributo lì viene compensato e voi non lo sentite con le L2 si muove bene statistiche difensive che insomma sono tutte quante extra top forza 90, l'unica pecca è quella 84 di aggressività perché se fosse stato un po' più alto avremmo avuto tra le mani veramente un giocatore clamoroso, pazzesco al pari veramente dei Toti magari prenderà, vi ripeto, l'upgrade e lo diventerà quindi Varan in prima posizione ah, attenzione, un'altra premessa li ho catalogati per campionato quindi vedremo prima i quali di Liga, poi di Premier League e poi vedremo quelli di Serie A e Bundesliga insomma, quelli dei campionati maggiori poi se c'è qualche chicca l'ho inserita, ma non è questo il caso andiamo avanti e altra carta molto interessante fresca fresca è il buon Mario Ermoso un metro e 84, alto normale piede sinistro, 5 di skill e 3 di piede debole quello che diciamo io chiamo il nuovo G-Manets Rule Breaker ok? che sostituisce anche Varan Base secondo me anche Varan Nif perché parliamo di un giocatore molto rapido con degli ottimi passaggi abbiamo addirittura 82 di agilità oltre all'88 di reattività quindi è ancora più mobile quando si tratta di andare a traccare quelli che sono i movimenti degli avversari 83 di freddezza statistiche difensive molto buone 86 di forza e 88 di aggressività per completare il pacchetto la cosa molto interessante di questo Ermoso oltre al fatto che è spagnolo quindi anche ibridabile molto bene è il fatto che costa relativamente poco ormai insomma costa veramente sui due 300k non vorrei dire sciocchezze comunque è un prezzo accessibilissimo e per un difensore è tanta tanta roba visto che è rapido preciso negli interventi e reattivo quindi promossissimo Ermoso lo colloco al secondo posto in quella che è una mia personale classifica dei difensori di Liga andiamo avanti e troviamo Yuri Bercice eccolo qua il primo terzino di oggi che incontriamo che virtualmente spostiamo difensore centrale 1,81m 1,90m piede sinistro 3-3 ovviamente non vi devo stare a dire che è molto rapido ha anche degli ottimi passaggi ha ottime statistiche per quanto riguarda agilità, equilibrio e reattività ma ovviamente essendo un terzino è avvantaggiato in questo sotto questo punto di vista ha delle ottime statistiche difensive in particolare la lettura difensiva che ci interessa che è quella che diciamo fa fare autoblock movimenti automatici interventi automatici quelle cose che tanto ricerchiamo e ricercate e poi abbiamo forza 86 e aggressività 91 ok? quindi per quanto riguarda quei due parametri lì siamo veramente al top e questo qua vi ripeto spostato in posizione di difensore centrale è sicuramente una grandissima alternativa a quelli che sono i difensori attuali andiamo avanti e ci ritroviamo in Premier League quindi passiamo dalla Spagna all'Inghilterra e il primo difensore che io indico è Walker If Walker If che anche qua entriamo nella categoria dei difensori laterali spostati in zona centrale ma Walker nella sua versione If è proprio DC e per me è il principe di quelli che sono i difensori in Premier perché è veramente tanta tanta roba è un metro e 83 ha alto alto ha 3 di skill e 2 di piede debole è un razzo ha dei passaggi un po' così e così ha delle statistiche difensive ragazzi che viste così non sono chissà cosa rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad ora ma sta carta è rotta è totalmente rotta non perde un contrasto interventi automatici è aggressivo è forte nonostante 79 e 78 è veramente un qualcosa di insensato questa carta quindi io personalmente la piazzo al primo posto e la piazzo anche davanti a quel che è il più inflazionato James che però sto utilizzando perché qualità prezzo per le intese mi serviva lui parliamo di un giocatore questo anche qua veramente devastante un metro 82 alto normale piede destro 3-3 parliamo di un giocatore con 89 di accelerazione 92 velocità scatto ci mancherebbe altro di un giocatore con un ottimo passaggio corto e un lungo un po' così e così abbiamo delle ottime statistiche per quanto riguarda agilità equilibrio reattività un po' meno l'aggressività perché siamo su 80 bene la forza e bene le statistiche difensive vi assicuro però che il James ancora una volta l'aggressività vi assicuro non la sentite si attacca all'avversario riesce a far bene i contrasti toglie quasi sempre il pallone è molto reattivo nel seguire i micromovimenti quindi io lo piazzo al secondo posto in quella che è una mia personale classifica i difensori di Premier League all'interno della quale vado a inserire anche Joe Gomez nella sua versione IF questo è un sempre verde raga attualmente si è anche visto nell'ultima qualifica nonostante siano passati mesi e nonostante le carte presenti sul mercato ormai siano veramente molteplici parliamo di un giocatore molto ingombrante fisicamente un metro e 88 piede destro 3-3 normale normale tanta roba per quanto riguarda velocità scatto 87 80 di accelerazione un ottimo passaggio corto anche qua ci iniziamo magari a preoccupare per quel 67 di agilità compensato all'85 di reattività che è quello che appunto vi ripeto serve per contrastare l'agilità degli avversari quindi bene benissimo le statistiche difensive con 86 di intercetto 85 di lettura difensiva in particolare forza 85 aggressività 83 sono parametri anche qua abbastanza sbroccati perché questo parte come un treno e travolge tutto e con l'aggressività 83 vi assicuro che non lo sentite tantissimo perché anche qua parliamo di un giocatore molto molto aggressivo quindi ben fatto anche per Gomez che si piazza secondo il mio gusto al terzo posto in quella che è la classifica dei difensori centrali di Premier League per quanto riguarda poi un altro difensore molto interessante che vi ho inserito è Bailey li ho inserito perché per due motivi il primo è che qualità prezzo questo qua fondamentalmente non era male però ha dei parametri un po' così perché parliamo di un giocatore di un metro 86 con normale alto 3 di skill e 5 di debole che ci fa piacere ha quel 79 di accelerazione che è un pochino deficitario vuol dire che sul primo passo un po' va a accedere ok per poi magari recuperare con l'85 di velocità scatto ha un buon passaggio corto e mi preoccupa l'82 di reattività che non è un parametro top per un giocatore di un metro 86 che rischia di diventare un po' pesante nel seguire gli avversari poi per carità le statistiche difensive sono al top la forza e l'aggressività anche ve l'ho inserito quindi per quanto riguarda diciamo rapporto qualità prezzo e interessanti link come quelli che può dare a un Rashford a un Bruno eccetera eccetera passiamo dunque dall'Inghilterra alla serie A è il primo che troviamo nonostante sia sempre un giocatore inglese però trapiantato nel nostro campionato è Fikai Otomori numero 1 giocatore in serie A secondo il mio personale parere un metro 85 normale normale 5 di skill e 4 di piede debole quindi parliamo di un giocatore molto veloce parliamo di un giocatore con un buon passaggio corto di un giocatore con una discreta agilità e un'ottima reattività con una buona freddezza statistiche difensive veramente da fuori classe 90 di forza e 85 di aggressività quindi veramente devastante questa carta e io l'ho piazzata davanti a Chris Molling Chris Molling che è un altro giocatore molto 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 forte per quanto riguarda la serie A però che non mi sono sentito di mettere al primo posto visto che data la sua stazza fisica nonostante abbia 91 di reattività vi assicuro che non è così reattivo nei movimenti e quel 77 di accelerazione nei primi passi rischia di far sì che rimanga un po' dietro rispetto invece a un Tomori poi per carità anche in questo caso le statistiche difensive sono da fuori classe superiori anche a Tomori forza 98 aggressività 92 insomma non hanno bisogno di ulteriori commenti quindi secondo me Dream Coppia Dream Capwall per quanto riguarda la serie A è Smalling e Tomori a seguire un'altra carta molto sfiziosa è questo Dalot quindi anche qui un terzino lasciate perdere il sinistro e il destro sono simili vi ho messo il sinistro perché io ho provato questo 1,83m alto normale che vi assicuro non si sente molto rapido un buon passaggio corto lungo un po' a meno le statistiche che di agilità equilibrio riattività sono buone essendo un terzino benissimo le stats difensive in particolare l'87 di lettura difensiva e 82 di forza e 88 di aggressività questo qua raga se volete il mio personale parere lo preferisco anche a quest'altra carta qua Teo Hernandez perché? perché Dalot è un po' più mingerlino fisicamente nonostante sia solo un centimetro più basso ma per via del suo body type diverso è più mobile rispetto ad un Hernandez ok? e mobile non significa veloce significa reattivo Hernandez col suo body type importante è sì veloce però rischia di cedere un pochino su quelli che sono i micromovimenti quindi alle volte l'ho trovato un po' pesante e a tal proposito l'ho piazzato addirittura dopo Dalot dopo aver testato Dalot e aver già provato tempi non sospetti il buon Hernandez che comunque rimane un giocatore di assolutissimo livello trasliamo dall'Italia alla Germania quindi concludendo quello che diciamo il tour dei maggiori campionati e andiamo in Bundesliga il primo difensore che ci aspetta è Akanji stessa premessa per Varane fatta non so se Borussia cambaccherà contro il City e questo continuerà il suo percorso verso la finale diventando sempre più una carta allucinante ma parliamo di un giocatore di 1.87 normale con 82 di accelerazione e 90 di velocità scatto guardate che passaggi che c'ha guardate 82 di agilità e 91 di attività già per un difensore centrale 90 di freddezza statistiche difensive allucinanti 88 di forza e 84 di aggressività che è quell'unico parametro diciamo un po' più bassino ecco sotto questo punto di vista ma ancora una volta un giocatore veramente forte 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 ed è molto interessante questo Akanji perché linca linca anche altri giocatori che vedremo dopo però senza spoilerarci e ce lo siamo spoilerato non so perché perché mi ricordavo che era diverso l'ordine invece abbiamo un babù pazzo sì ma pazzo per babù giocatore clamoroso che potete anche switchare nella posizione difensore centrale appunto un metro e 84 alto normale che anche qui non sentite nascheggia velocissimo buon passaggio corto discreto lungo 88 di agilità 85 di equilibrio 84 di attività buona freddezza statistiche difensive eclatanti 86 di forza e quell'81 di aggressività che sono un po' ma vi assicuro che questo è un bufalo quindi Sandokan Babu lo beccate contro tutti gli avversari lo piantate e lui va a rubare la palla quindi vi assicuro Babu veramente veramente forte anche lui lo piazzo diciamo nell'elite di quelli che sono i difensori di Bundesliga così come piazzano i giocatori di elite in Bundesliga il sempre verde Klosterman un metro e 87 normale normale molto veloce anche se quell'82 di accelerazione è un pochino al limite 84 di corto per quanto riguarda statistica di reattività abbiamo addirittura 89 preoccupa un po' quel 75 di freddezza ma neanche tanto e poi abbiamo tantissime ottime stats per quanto riguarda la difesa un 80 di forza e un 77 di aggressività che insomma anche in questo caso più che altro per il body type perché Klosterman è un pochino smilzo quindi per questo motivo ha quei parametri lì ma che si fa sentire in mezzo al campo cosa che fa anche questo Gunter un'altra carta fresca fresca perché appunto è uscito con il foot birthday e parliamo di una carta allucinante un metro 85 5 di skill e 3 di piede debole una carta che ovviamente è straveloce ha un buon corto ha delle ottime statistiche per quanto riguarda agilità equilibrio reattività fredezza 85 lettura difensiva 83 forza 90 aggressività 92 ragazzi sta carta fa paura è full automatica vi giuro la trovate sempre sulla diagonale giusta la trovate sempre a coprire lo spazio fa sempre l'intervento automatico vi giuro veramente una piacevolissima sorpresa questo Gunter e costa anche 2 lire ed è facilmente linkabile visto che in bundes anche quest'anno abbiamo visto tutta una serie di carte molto 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 forti a far compagnia a Gunter abbiamo uno dei gemelli Bender che hanno deciso di ritirarsi alla veneranda età praticamente di 30 dispari anni 32 anni quindi molto giovani in realtà andiamo avanti a guardare quelle che sono le statistiche molto veloce ottimi passaggi agilità 90 equilibrio 89 86 di attività ovviamente non ve lo sto neanche a dire benissimo le stats difensive 82 di forza 84 di aggressività anche questo è molto buone mentre mia sorella sta cercando di catturare i fantasmi come facevano i Ghostbusters in sottofondo e parliamo di un giocatore questo molto molto interessante che anche qui può essere sia utilizzato per appunto suppostarlo da DC sia per dare magari anche intesa a Gunter utilizzandolo già a DC magari a 7 concludiamo questo simpatico quadretto con Senjust un giocatore totale questo vi giuro è l'unico caso o un caso molto raro di difensore centrale che può fare il terzino c'ha una falcata ampia 5 di skill e 3 di debole velocissimo ottimi passaggi mi è capitato di beccarlo contro in un rombo ha tirato pure una quantità di Sarac che la buttava dentro che era un piacere agilità agile reattività 82 forza 82 aggressività 79 vi giuro non si sente vi giuro non si sente minimamente quindi veramente al top anche questa carta qua ovviamente andava sbloccata per tempo quindi immagino che non tutti ce l'abbiano però chi l'ha sbloccata vi assicuro che non se n'è pentito e questo è molto molto poliedrico e può essere anche utilizzato per mettere terzino lui e magari un bender o un gunter da appunto DC quindi ragazzi per quanto riguarda questo primo appuntamento è tutto spero che ci siamo chiariti un pochino le idee mi raccomando fatemi sapere voi che ne pensate lasciate come al solito un like in descrizione tutte le info per quelle che sono live giornali sulla piattaforma viola un abbraccio e un saluto dal vostro liberoski e a presto a presto